Saranno convocati il 7 di giugno alla Regione i 12 comuni che hanno aderito al co-marketing, fra questi manca Trapani, commerciale a capofila. A loro verrà distribuita la somma destinata all'aeroporto di Birgi, il 72% dell'importo totale pari a 17 milioni messi a disposizione per gli scali di Comiso e del Vincenzo Florio. Sarà la cucco Trinacria di Comiso la società che esploderà la gara per gli anni 2018-19-20. Chiaramente possiamo considerare bruciata la stagione estiva, considerato che anche People Fly che in questi mesi aveva annunciato l'attivazione di una serie importante di collegamenti con Birgi sembra avere difficoltà in quanto non riesce a trovare disponibilità di aerei da noleggiare. Intanto in questi giorni una nota positiva. Birgi è ricomparso nel sito di Ryanair con la possibilità di prenotare per la prossima stagione invernale voli per Cagliari, Bologna e Pisa. Attualmente da Trapani sono operative 13 destinazioni. Sono Pantelleria, Mistralair, Malta, Cagliari e Napoli, Ali Blu, Amsterdam, Maestrik, Cairondam, Torino, Bluair, Milano, Linate e Roma Fiumicino, Alitalia, Oriol Serio, Francoforte, Carciù, Praga, Ryanair. Presidente, l'assessorato al turismo e la regione siciliana hanno appena emanato questo decreto che finalmente ridà luce a un aeroporto, quello di Birgi ma anche quello di Comiso, che viaggiavano a luci spente. Il calo del 90% del flusso turistico in questi mesi ne è testimone e ora cosa succede? Ora succede che grazie a questa notizia che è estremamente positiva e che costituisce il bene dell'azienda, cioè il futuro dell'azienda su cui ripartire, consentirà appunto all'aeroporto di poter gettare le basi per la prossima stagione sicuramente estiva e ci auguriamo se i tempi di esecuzione del bando dovessero essere come noi ci auguriamo, rapidi, anche per dare un buon contributo alla prossima stagione invernale. Intanto il 7 giugno sono stati convocati in assessorato i 12 comuni che hanno aderito al co-marketing, ricordiamo che fra questi e noi manca il comune di Trapani, capofila di questi 12 comuni è quello di Marsala, andranno a firmare questo accordo e quindi come gireranno poi queste somme che sono relative al triennio fra l'altro? Allora guardi, diventa difficile spiegare in termini semplici perché i comuni debbano rifirmare questo addendum il prossimo 7 giugno. Credo che sia già la seconda o la terza addendum che i comuni firmano negli ultimi due mesi e dove noi aeroporto intesi come civil servant ci stiamo mettendo a disposizione dei comuni per aiutarli sia nella fase appunto di redazione del bando sia nella fase appunto prodromica alla redazione dello stesso. Questi addendum in buona sostanza contengono anche quella delega che l'aeroporto ha per gestire tutti questi momenti di grande burocrazia ma purtroppo necessari per arrivare all'edizione del bando definitiva. Quindi io il 7 lo considero un passaggio meramente tecnico perché veramente i comuni sono assolutamente decisi e determinati a fare il loro passaggio in questo senso. Però è un passaggio tecnico punto. Quello che sarà importante sarà la celerità degli organismi regionali che sono stati deputati di gestire questa vicenda quindi in primis l'assessorato al turismo e quindi sperare che ci sia una velocità nei passaggi consigliari che noi abbiamo richiesto in un'ottica di massima e più ampia trasparenza proprio per non avere alcun problema sul tutto del bando. Poi sarà compito della CUC probabilmente Trinacria che è quella a cui abbiamo pensato di rivolgerci con Comiso per far sì che le fasi della gara siano le più efficienti ma anche le più veloci possibili perché più tardi esce il bando più noi andiamo a rischiare che questo bando non sia appetibile verso i soggetti che ci dovranno partecipare. Altro segnale positivo è stato proprio in questi giorni, queste ultime ore da Ryanair che ha aperto anche la prenotazione per la prossima stagione invernale di altri tre voli che si aggiungono a quelli attuali. Poi ricordiamo che in atto ci sono 13 destinazioni in tutto dall'aeroporto di Birgi ma le nuove, una è Cagliari ma soprattutto Bologna e Pisa che sarebbero tratte quotidiane sono importanti ma anche un segnale di interesse. Un segnale di interesse, un segnale totalmente scisso dalla prossima gara quindi significa che comunque noi siamo appetibili per Ryanair anche ad euro zero come siamo allo Stato. È un bel segnale nei confronti del nostro aeroporto ed è anche credo un piccolo like rispetto a quella che è stata l'attività molto silenziosa ma di grandissimo lavoro che sta svolgendo questo management aeroportuale in questo momento che è ancora di piena emergenza ma che probabilmente incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel.